Allora, devi passare l'aspirapolvere, mettere in ordine il frigo e portare fuori la spazzatura! Sì, comandante! Molto bene, a più tardi! Che scocciatura! Muoviti! Muoviti! Papà, ti va di giocare? Adesso non posso giocare, devo portare fuori la spazzatura! Avevi promesso di giocare con noi! Ehi, mi va, piccoli rapidatori di banche, di portare il malloppo al vostro rifugio? Stiamo portando fuori la spazzatura! Sì! Papà, ti ha imbrogliato! Non era un gioco! Mi dispiace, sono affetto da una malattia che si chiama pigrizia! Ah sì? Beh, d'ora in avanti i pigri saremo noi! Se riuscirete a trovare una persona più pigra di me, anche nella nostra città, sbrigherò tutte le vostre faccende! Però se non la trovate, sbrigherete le mie per il resto della vita! Non fa una piega! Fantastico! Diamo inizio alla mega sfida di pigrizia! Oi, Kitcher! Sfiderò a Rolt Iron Knuckle, pugno contro pugno, a cura della federazione di Rastring del Pollice! Cosa facciamo? Facciamo quello che fa papà! Non si ferma mai! Ehi! Occhio! Hai una cosa sulla faccia! Dove? Qui! Oh! Oh, scusa! Non so che cosa mi è successo! Mi fermo in cala tutto! Anche a me, fratello! Che succede? Zucchero dovunque e tutto intorno a voi Non potete fare più a meno di noi Se davvero non riuscite proprio a stare senza Questa carinia si chiama dipendenza Questa carinia si chiama dipendenza Penso ammettito! Papà! Ci serve una pausa! Troveremo qualcuno più forte! Certo! Però ti avviso subito! Io sono invincibile! Dai, Gabby, andiamo! Let's go! Grazie a tutti